So bene quanto sia difficile migliorarsi in ambienti costruiti sull'individualismo più spietato, ma insieme o da soli, riflettendo e mettendoci un po' di buona volontà, è possibile cercare di ferire e ferirsi il meno possibile. E passo dopo passo si scopre quanto, così facendo, sia possibile migliorare la qualità della vita, sia nostra che del nostro prossimo. Laddove il terreno è fertile, per quanto incolto, un seme fiorisce sempre e i suoi frutti saranno dolci. Occorre tempo, coraggio, pazienza. Si verrà spesso delusi, feriti, ingannati, calugnati, ma si prosegua con serenità, senza ira, a testa alta. Non addirarsi è difficilissimo, lo so, ma so altrettanto che è possibile migliorarsi. Ho visto questo tipo di miglioramenti in ambienti in cui sembravano invece impossibili, e li vedrò ancora, li vedremo ancora. Non arrendetevi mai.